ciao a tutte le mamme io oggi volevo spiegare e raccontare la mia esperienza con questi due tipi di salviette allora ho scelto queste due in particolare di tutte le tantissime che hanno che alla linea happy tra l'altro le ho provate tutte quindi posso fare anche tanti paragoni ad ogni modo io ho scelto questi qua che sono le ultime due allora questa è avena e pantenolo queste mandorla e olive la differenza sostanziale è nella profumazione perché comunque entrambe hanno delle caratteristiche a parer mio molto importanti perché l'avena e il pantenolo è un antirossore contro il prurito inoltre l'avena si sa bene va a riequilibrare il ph della pelle quindi nei casi in cui ci sono problemi di rossori queste sono fantastiche ultra delicate il pantenolo sappiamo tutti che un antinfiammatorio e aiuta tantissimo comunque insieme alla vena appunto a lenire la pelle e elevare qualsiasi tipo di rossore quindi queste qui sono fantastiche inoltre la chiusura salva freschezza aiuta tantissimo a mantenerle sempre umide e poi hanno questa trama che se si può vedere leggermente alveolata che è fantastica perché quando si va poi a pulire raccatta bene lo sporco e devo dire sono fantastiche la profumazione è buonissima e sono tra le mie preferite queste qui invece alla mandorla e all'olio di oliva sono ricche ovviamente di vitamine perché alla mandorla che l'oliva sono ricchi di vitamine in più l'oliva e anche sali minerali e sono lo stesso molto delicati e nutrienti infatti in entrambe diciamo la caratteristica principale quella appunto di prevenire rossori ed essere molto idratanti stessa cosa anche per queste che non ho ancora aperto adesso però ok hanno anche queste una trama alveolata quindi fondamentalmente sono identiche cambia la profumazione la texture e la solita polgono tantissimo lo sporco sono molto molto umide quindi questa salva freschezza qui è fantastica almeno io personalmente mi trovo benissimo e niente se dovessi sceglierne una non lo so quale scegliere infatti solitamente le compro in coppia perché almeno alterno la profumazione